Il giorno dopo le amministrative, a Silvi si tirano le somme. Tra euforia ed elusione, vincitori e vinti esprimono i rispettivi stati d'animo e analizzano il voto nel dettaglio. Se nel centro-sinistra Giuseppe Gentile si consola parzialmente dalla batosta con il voto disgiunto e i consensi dati solo al candidato sindaco, il primo cittadino uscente, Andrea Scordella, in realtà dal comune non esce affatto e questa mattina lo troviamo già pronto. Nel centro-destra Vincente spicca l'ottimo risultato di Luciana Di Marco, prima nella graduatoria delle preferenze ottenute, 467. La lista è quella di Fratelli d'Italia, primo partito a Silvi con 1.074 voti. Successo personale di lista anche per Fabrizio Valloscura, già vice sindaco nello Scordella 1 e che con le sue 426 preferenze ha contribuito al secondo posto della sua lista Noi Moderati, che ha 1.021 voti. Seguono Forza Italia con 996 e Lega, partito che esprime il sindaco Scordella e che ha ottenuto 925 voti. Sono felicissima del risultato sia del partito che mio personale. Questo significa che Silvi non dimentica. Io sono stata già assessore dal 2009 al 2013 in Silvi, alla pubblica istruzione, cultura, sport e quindi ho fatto grandi cose a Silvi. Sono passati sì dieci anni ma vedo che Silvi non ha dimenticato. Fratelli d'Italia è il primo partito. Siamo felici di questo risultato avuto grazie all'unione di tutti i candidati, grazie al coordinamento provinciale e regionale. Quindi ringrazio Marilena Rossi e ringrazio Umberto D'Annuntis per questo risultato che ci sono stati vicini. Hanno saputo fare la differenza, hanno saputo scegliere i candidati giusti. Quindi io ringrazio anche la scelta che hanno avuto su di me. Giorgia Meloni verrà a salutarvi. Vediamo, glielo proponiamo. Perché no? Anche perché essendo la più votata e sono una donna mi piacerebbe che fosse qui a darci un saluto. Il ringraziamento va a tutti, maggiormente va alla mia squadra. Abbiamo portato un partito che a livello nazionale è l'1,7% a circa il 13% con oltre 1000 voti. Il ringraziamento vanno loro, a tutti i cittadini che mi hanno votato e speriamo di ripartire per costruire un futuro bellissimo su questo territorio. Avevamo iniziato delle cose bellissime, tipo il PEBA che dobbiamo portare a termine, dobbiamo finire gli orti sociali, dobbiamo finire di portare avanti tutti i finanziamenti presi con i fondi del PNRR di cui ero coordinatore nella scorsa giunta. Quindi c'è tantissimo da fare, non ci annoieremo sicuramente. Il riconfermato sindaco Scordella è già in comune questa mattina. Ha dormito poco, evidentemente. Sì, abbiamo dormito poco, un po' per l'emozione del risultato elettorale e un po' insomma anche per i festeggiamenti di ieri sera. Siamo veramente felici del grande risultato di squadra, dell'intera coalizione centrodestra. Vincere il primo turno è sempre un'emozione incredibile, dunque abbiamo fatto un grande risultato e ne sono fiero. I successi personali dei componenti delle varie liste in qualche modo aiutano a delineare la futura giunta? Indubbiamente ci sono candidati che hanno avuto un ottimo espluato, dunque siamo convinti che poi nella ripartizione dei posti in giunta con il tavolo provinciale, con le sigle dei partiti, ci sederemo e faremo una valutazione attenta, ma penso che siano in pole position dei candidati che hanno preso molti più voti rispetto agli altri. Il nostro programma elettorale puntava proprio sulle infrastrutture. Abbiamo due o tre situazioni già avviate che vanno a completamento dei finanziamenti del prima tranche del PNRR su 14 milioni e mezzo di euro, ma abbiamo anche dei progetti importanti tra cui l'approdo turistico, la variante 16, che sono indispensabili per una città che vuole sicuramente crescere, soprattutto per lo sviluppo turistico e non solo di un territorio che vive di quello.